il negozio di lifty e i mobili per la casa delle bambole al parco giochi e sta arrivando una bellissima decappotabile rossa guidata da bianca un elegante bambola lei sta andando con la sua simpatica decappotabile rosso al negozio di lifty chissà cosa vuole comprare ciao lifty è arrivata bianca apri il tuo negozio buongiorno bianca ha bisogno dei mobili per la sua casa per le bambole li metterà nel portabagagli della sua macchina hai i mobili per il salotto? vediamo se a bianca piacciono un bellissimo divano fucsia bianca ti piace? sì e questo lo ha preso una lavatrice bianca e fucsia è molto bella ma la lavatrice va in cucina non in salotto no una poltrona giusta per il salotto e intonata al divano e la presa un camion dei pompieri non è un arredo per una casa delle bambole una tv vuoi vedere i cartoni animati? sì la prende allora una lampada è utile per illuminare il salotto presa ma non entrano nel portabagagli hai un'idea? sì la poltrona la lampada e il divano no 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 non c'è più spazio Lifty trova una soluzione Lifty ha chiamato il suo amico Boo un pick up arancione molto simpatico lui sì che può portare i mobili a casa di bianca grazie Lifty grazie Boo segui la decappotabile rossa ciao adesso bianca ha tutti i mobili per il suo salotto ma verrà a trovarci presto alla prossima puntata ciao Lifty grazie a tutti grazie a tutti